benvenuti nel comune di novivelia nel parco nazionale del cilento e vallo di diano quarto monte più alto di questo parco e il monte gelbisono monte sacro da qui mediante questo percorso davvero agevole e mediante una via crucis che tra poco toccheremo molto suggestiva si raggiunge in pochi minuti e per pochi metri il santuario della madonna del sacro monte culmine di questo percorso singolare di via crucis è questa croce siamo nella piazza del santuario che qui poi non è un singolo luogo il santuario certo l'edificio religioso risale al 1323 quando incominciò la cristianizzazione qui su questo territorio visto che prima vi era un edificio di culto pagano ma qui noi abbiamo una sorta di cittadella un complesso di edifici tra foresteria bar ristorante croce e santuario la chiesa del santuario è in stile barocco tre navate sostenuta da sei colonne di pietra locale con le sene perimetrali in peperino arricchita da vetrate d'arte e pavimento imperlato nella nicchia custodisce il gruppo lineo della madonna incoronata e Grazie a tutti.